Ciao ragazzi, si scende a casa, si scende d'Altamura, si scende perché domenica si vota, si scende anche perché magari non è vero che chi è fuori per studio, per lavoro, non gliene frega niente di Altamura, magari chi è andato via non è stato libero di poter esprimere le proprie idee, i propri valori, forse magari qualcuno vuole tornare, vuole far vedere cosa ha visto, volentere già qualche idea, però per far sì che questo accade sicuramente c'è bisogno di un cambiamento, alla fine apparo la chiave, il primo passo per il cambiamento è senza ombre di dubbio la cultura, quindi io domenica voto Rosa Melodia come sindaco di Altamura.